Ciao a tutti amici di 3K, con la voce Askel che parla e vi dà il benvenuto. Nel video del 13 dicembre è dedicato ai giochi in uscita, ai giochi gratis e ai giochi scontati che si richiede a proporre oggi per noi. Se invece avete conosciuto meglio potete seguirmi sul mio canale principale Twitch per i miei streaming, oppure sul mio social di Instagram per i miei aggiornamenti. I link sono tutti quanti iscritti in descrizione. E nel mentre noi possiamo iniziare con la presentazione dei giochi di oggi. Il primissimo gioco gratis che presentiamo su Steam è Colo Juarez Gunslinger, che vi consiglio di prendere perché non è come i soliti giochi gratis su Steam, perché qua lo riscattate e rimarrà per sempre nella vostra libreria, quindi mi raccomando, approfittate, correte a riscattarlo perché è davvero un gioco bellissimo che merita un sacco, quindi non perdetelo. Invece è gratis perché abbonamento all'Xbox andando un sacco di giochi questo mese, tra cui Final Fantasy XIII 2. E ricordavo che in questo gioco in particolare poche persone lo avessero giocato, quindi vi consiglio nel caso di riscattarlo e che rimarrà per sempre nella vostra libreria. Quindi approfittatene e provatelo e fatemi sapere poi se vi è piaciuto. Invece gratis per chi ha l'abbonamento ad Amazon Prime e quindi anche Twitch Prime, sta andando anche Need for Speed Hot Pursuit Remastered, che è un ottimo gioco di corse che davvero vi consiglio per la serie di Need for Speed veramente andate sul sicuro. Quindi anche qui riscattatelo e rimarrà per sempre nella vostra libreria, quindi non perdetelo. Invece è gratis per chi ha l'abbonamento al PlayStation Plus andando anche qui un sacco di giochi, tra cui Lego DC Super Villains, che può sembrare un gioco per bambini ma è molto divertente, soprattutto perché è a tema DC, quindi malvagi, insomma davvero molto divertente. Quindi riscattatelo e giocato sulla vostra PlayStation, mi raccomando. Invece per i giochi in uscita il 16 dicembre uscirà Alfred Hitchcock Vertigo Pre-Order Bonus. Questo vuol dire che questo gioco lo potete prendere quel giorno, ma soprattutto lo prenderete in modalità Pre-Order Bonus. Quindi ci danno anche qualche cosina in più, soprattutto se non so se sito già adesso è scontato del 25%, quindi non perdete questa grande opportunità. E invece il 12 gennaio uscirà finalmente Monster Hunter Rise per PC, o lo sto ottenendo anche io personalmente, davvero non vedo l'ora. Quindi mi raccomando poi quel giorno compratelo dal nostro sito ovviamente, perché già adesso è scontato del 40%, intitola anche ai vostri amici così potete giocare insieme da PC. E invece il 14 gennaio uscirà God of War anche qui per PC finalmente. Un sacco di giochi stanno portando anche sul nostro adorato computer, quindi finalmente anche qui potete giocare God of War col 38% di scotto già adesso, non è ancora uscito, è già scontato, quindi tenetelo d'occhio e mi raccomando poi quel giorno compratelo, perché davvero mette un sacco. E invece il 20 gennaio uscirà Expedition Rome, che sicuramente, almeno sono convinta che sia, un gioco di strategia, comunque simulazione management, molto bellino, e soprattutto è già scontato del 21% sul nostro sito, quindi quel giorno non perdetevi questi giochi, non perdetevi tutti gli altri giochi in uscita in questo periodo, perché tutti meritano. Invece per i giochi super scontati c'è un giochino che io volevo troppo provare, ed è l'Ostion Random, che adesso è scontato del 30%, quindi ha solo i 21 euro, è davvero un ottimo prezzo per un gioco che è uscito anche molto recentemente, ed ha uno stile grafico davvero super accattivante, quindi consiglio di tenerlo d'occhio e di comprarlo, perché ho perso del genere, non lo troverete da nessuna altra parte. Invece a 20 euro abbiamo un altro classico, che hanno rimasterizzato, e merita tantissimo, ed è Legend of Mana, poche persone lo conoscono, ma merita tanto, soprattutto è cosa solo 20 euro, scontato del 33%, è un prezzo veramente stracciato per un ottimo gioco, credetemi, prima costava anche di più, prendetelo adesso perché merito. Invece a neanche 10 euro, con uno sconto del 56%, abbiamo Severed Steel, che è un gioco che io non conoscivo, ma avevo sentito parlare, perché anche come si è di gameplay FPS in prima persona, sembra davvero molto accattivante, super l'azione, quindi consigliato perché ha un pezzo stracciato del genere, e non fa da nessun'altra parte, quindi approfittatene. Invece l'ultimo, ma meno importante, a poco meno di 8 euro, con lo sconto del 61%, abbiamo Total Accurate Battle Simulator, che è un ottimo gioco da fare con i propri amici, davvero stra divertente e simpatia, quindi consigliato. Allora invece, come quest'ultimo gioco, concludiamo il video di presentazione di oggi, vi ringrazio per aver visto il suo video, e noi ci vediamo alla prossima presentazione dei giochi. O poi vi aspetto sul mio canale Twitch e sui miei social. Alla prossima, ciao ciao!